La Samba non riesce a ritrovare la vittoria e contro la Vastese termina a reti bianche. I Rosso-Blu conquistano sì il decimo risultato utile consecutivo, ma non riescono a fare il salto in avanti in classifica. Gli abruzzesi invece interrompono una serie nera che ne aveva rallentato la corsa verso i play-off. I Rosso-Blu si schierano con un 4-2-3-1 con il rientro al primo minuto di Lorenzoni, Peroni e soprattutto di Capitano Angiuli. I sacrificati sono Alboni e Cardella, che partono dalla panchina. Nella Vastese tridente offensivo Ficara, Alessandro Scafetta. La partenza è buona per la Samba, che già al quinto si fa vedere con un cross di Lulli per Falle, che a centro aria cade a terra e reclama il rigore, ma per l'apito è solo calcio d'angolo. Dalla bandierina palla ancora a Falle, che manca ad un soffio e l'incornata di testa. Trascorrono 60 secondi e viene annullato un gol a Falle per fuorigioco. Lulli-Sarvelisi, che pesca l'inserimento di Peroni, tocco di prima in centrale per Falle, che con la punta del piede supera Rienzo, ma l'assistente ha la bandierina alzata. Al nono, grosso brivido per la difesa rosso-blu, discesa sulla sinistra di Rubianco-Rossi, palla in mezzo, con Lissi che interviene per anticipare Pierpaoli e calcia fortissimo, mandando la palla in pieno sulla traversa della propria porta. Gli uomini di D'Adderio prendono in mano il centrocampo e la Samba fa una fatica in mano a creare occasioni pericolose. Alla mezz'ora mischia a furibonda in area vastese, tira, pica, palla che arriva a Falle e che tenta il tiro, ma cade. La Samba reclama un rigore. Nella ripresa rientrano i stessi 22, ma al secondo è la vastesa ad avere una clamorosa occasione per passare. Ficara serve Stivaletta, che arriva solo davanti a Noflac, in uscita disperata, tira sul secondo palo, ma la palla esce di pochissimo. Sul capovolgimento di fronte, Lulli per Falle, che rimette in mezzo, raso-terra di Rienzo, in uscita anticipa lo stesso Lulli, con la palla che resta nell'area piccola. Alfonso fa entrare Alboni e Cardella e gli effetti si vedono subito sotto l'aspetto del dinamismo dell'azione. Al 32esimo, incredibile occasione mancata da Cardella, insistita azione di Lorenzoni, appoggia per Falle, riprende Alboni, cross per Falle, che fa sponda per Cardella, il numero 7, ad un metro dalla porta, vuota, calcia incredibilmente fuori. Un minuto dopo, ancora Samba, Alboni pesca Falle in profondità, tocco a scavalcare di Rienzo, in uscita palla che carambola sulle gambe di Falle ed esce di pochissimo. I rosso-blu ora hanno un altro piglio, ma la vastese è ordinata nel difendersi e nei minuti finali ha un paio di occasioni con Alessandro e Tancredi, ma no flacca è attento e disinnesca la minaccia. Termina 0-0, un punto che serve a poco. A Chieti si trova a vedere un'altra squadra per portare a casa i tre punti. Diciamo che col Tolentino è stato difficile giocare e quindi ci hanno creato dei problemi. Questa squadra in 15 partite ha perso due volte solamente, col Tolentino abbiamo perso sia all'andata che al ritorno, però penso che questa squadra va a giocarsi le partite e meriterebbe qualcosa in più. Io penso che anche oggi qualcosa in più meritavamo se andavamo in vantaggio. Palle e gol molto unite, però per lei penso anche la soddisfazione è tornare a San Benedetto e dimostrare che il suo lavoro si fa. No, che devo dimostrare a 62 anni, ancora devo dimostrare. Penso che io dove sono stato è stato qui un momento difficile per la società, per i presidenti e per tutto. Però ho garantito una cosa, la serietà. Penso che questo è il marchio della mia fabbrica, del mio nome. Io sono una persona seria e do tutto me stesso. Poi il calcio dà i risultati o non li dà. Però ho dato veramente tutto me stesso e lo sto dando ora a basto. E ho un grande ricordo della San Benedettese perché fa parte dei big del calcio. E vi dico di più, io nell'80 contro la San Benedettese al Ballarin ho esordito da professionista. Quindi c'è anche un ricordo ancora più bello. Ci può stare, valuteremo in questi giorni perché non riusciamo più ad essere così incisivi. Quindi, ripeto, dobbiamo vedere se è una questione a livello atletico o se è una questione a livello mentale dove magari in queste ultime due partite ravvicinate così non siamo riusciti a buttarla dentro. Non dobbiamo perdere la fiducia, assolutamente non va persa la fiducia. E niente, dobbiamo lavorare, siamo dispiaciuti, come sempre. Però, ripeto, la positività che ci ha contraddistinto da quando siamo entrati noi deve continuare, deve essere la nostra forza. Ci dobbiamo credere, ci dobbiamo credere perché abbiamo le qualità e i mezzi per crederci. Quindi, ripeto, il rammarico c'è sempre, perché ci chiamiamo Samb e quando indossi questa maglia qua il pareggio non è vissuto in maniera serena.